Il nostro Made in Italy, teniamocelo stretto! La scuola di danza è un luogo che forma un artista e l'insegnante svolge un ruolo fondamentale nel percorso. Deve saper insegnare ai suoi allievi la tecnica e la bellezza di un'arte così antica, ma deve anche riuscire a tirare fuori l'anima dei giovani ballerini e far crescere la loro autostima. Un buon insegnante è la base per avere ottimi risultati a livello tecnico e interpersonale. Se l'ambiente è sereno e armonioso, infatti, i giovani allievi studieranno senza essere in competizione malsana tra di loro e l'amicizia nata nel nome dell'arte è un legame destinato a durare nel tempo. Sempre più spesso oggi nascono scuole di danza che non sanno dare un'adeguata preparazione e per questo è importante anche per un genitore valutare bene in quale ambiente inserire il proprio figlio. Perché una scuola ben scelta non formerà solo un buon artista, ma anche una persona in grado di autogestirsi nella vita reale.